L'Italia pensi al nucleare e le centrali sono sicure. Così il presidente di Confindustria Udine Gian Pietro Benedetti che al futuro governo chiede attenzione per il fare. Senza PIL non ci sono risorse da ridistribuire. Dopo il decreto del Tribunale del Lavoro Varsi la revoca alla procedura di chiusura dello stabilimento triestino ma non esclude di opporsi alla decisione del giudice. Sindacati spaccati sul via libera alla consegna ai coreani dei motori bloccati in porto. Dal mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute alla presenza di lavoratori completamente in nero. I controlli di carabinieri e guardia di finanza hanno portato alla sospensione di nove attività nelle province di Udine e Pordenone. Un giovane di Cormons è stato soccorso ieri sera sul campo sportivo di Gradisca di Sonzo a seguito di uno scontro di gioco. Il portiere ha subito un colpo violento alla testa e in prognosi riservata all'ospedale di Cattinara. Buonasera a tutti i telespettatori di Udinese TV e bentrovati a questa edizione serale del nostro Tg. In apertura le parole del presidente di Confindustria Udine Gian Pietro Benedetti che oggi a margine di un incontro a Butrio nella sede delle Centro Ricerche Danieli dove in questi giorni è in corso un incontro tra i produttori d'acciaio di tutta Europa è intervenuto sulla questione energetica e ha aperto al nucleare. L'Italia pensi al nucleare ha detto il presidente di Confindustria Udine perché le centrali di ultima generazione sono centrali sicure e poi anche un appello al nuovo governo pensi al fare perché se non c'è PIL non ci sono nemmeno risorse da redistribuire. Allora andiamo a sentire l'intervista raccolta da Monica Nardini. Nel comparto presidente prioritariamente cosa chiede al nuovo governo? Quello che abbiamo chiesto sempre attenzione per il fare attenzione per l'intraprendere perché senza fare intraprendere non si crea PIL e senza PIL non ci sono risorse da distribuire. Facile parlare di risorse di distribuire un po' più impegnativo vedere come farlo. Negli ultimi 20-30 anni come farle se ne è parlato poco. Basta vedere l'andamento del debito. Speriamo che col prossimo governo si parli anche come fare le risorse per poi distribuirle. Sul fronte energetico dato anche lo sviluppo della situazione internazionale fronte al gas Nord Stream preoccupato? Tutti siamo preoccupati, comunque bisogna resistere per ancora un paio di anni e ritengo che le cose si normalizzeranno nel 24-25. Spero che nel frattempo l'Italia qualche più di gas a destra o a sinistra lo estrà oltre che gli approvvigionamenti e pensi anche al futuro tra 10 anni e 15 anni e di conseguenza anche installare centrali nucleari di quarta a quinta generazione che sono al 100% sicure come fanno tutti i paesi in sostanza. A proposito di PIL andiamo a vedere la notizia che troviamo in primo piano in questo momento sull'agenzia ANSA. Il PIL più 3,3% nel 2022 rivista al rialzo la stima del documento di economia e finanza. Il Consiglio dei Ministri ha approvato la nota di aggiornamento al DEF e la crescita stimata del PIL nel 2023 rallenterà al più 0,6% per poi risalire al più 1,8% nel 2024 e al più 1,5% nel 2025. L'inflazione secondo la nota comincerà a scendere entro fine anno. Il deficit scende al 5,1% quest'anno al 3,4% nel 2023. È un contesto difficile, si legge proprio nel DEF ma ci sono margini per superare le stime, una previsione improntata comunque ad un approccio prudenziale. Adesso parliamo di logistica e trasporti perché rimanendo nella sede di Confindustria Udine oggi si è tenuto un importante convegno per fare il punto sulla logistica e sui trasporti in Friuli Venezia Giulia dopo la pandemia, dopo anche i primi mesi di guerra e allora andiamo da Francesca Santoro che ci aggiorna proprio su questo. Buonasera Francesca. Buonasera Angela, la sede di Confindustria Udine ha ospitato oggi un convegno che è servito fare il punto della situazione sulla questione logistica, trasporti e intermodalità in seguito alla pandemia e alla guerra. Un mondo che è cambiato completamente con tante conseguenze per gli addetti lavori che erano presenti appunto oggi a questo confronto insieme alle istituzioni e ai politici. Un convegno organizzato dal COSEF, il Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli. Noi abbiamo fatto il punto con il Presidente Claudio Gottardi per capire come è cambiato appunto il mondo della logistica e cosa bisogna ancora fare nella nostra regione per migliorare sul fronte della intermodalità. Vediamo l'intervista e Polini allo studio. Il problema della logistica con questa crisi dovuta alla pandemia ha dovuto correre ai ripari. Siamo passati in pratica da un sistema globalizzato dove l'imprenditore cercava soprattutto l'efficienza economica, riducendo le scorte, quindi operando in just in time come si dice e cercando i paesi con costi di materie prime e del lavoro più bassi. Tutto questo è andato bene finché il problema della pandemia non ha messo in crisi questa catena di approvvigionamento. Va stato che qualcuno chiudesse le produzioni, lo limitasse, che coloro che assemblavano tutti i componenti che avevano delcalizzato si fermassero. Questo poi è stato aggravato dal problema dei trasporti, i quali avevano cancellato parecchie rotte, avevano mandato anzi le navi in manutenzione pensando che la domanda calasse. Invece questa è stata una previsione che non ha trovato riscontro nella realtà. Anche i più riuttosi sono ricorsi all'e-commerce e quindi volevano essere serviti delle varie materiali in casa e questo ovviamente ha trovato tanta gente impreparata. Oggi quindi la ristrutturazione che non è una deglobalizzazione della logistica avviene su tre linee portanti. Riavvicinamento e quindi restoring delle attività produttive, pluralità di fornitori e scorte adeguate in maniera che siano in grado di far fronte in caso di qualsiasi interruzione che avviene nella catena. Ultimo, ma non ultimo, problema della digitalizzazione, quindi una logistica 4.0 in cui le connessioni in qualche maniera forniscono i dati necessari e in secondo luogo la ricerca di capitale umano perché per fare la digitalizzazione ci vogliono ingegneri logistici, gente a mente aperta che sappia in qualche maniera aprirsi a nuove frontiere. Sul fronte della intermodalità come siamo in Friuli Venezia e Giulia? Cosa resta da fare? L'intermodalità che è il segreto per il futuro sia da un punto di vista dell'efficienza dei trasporti ma anche dell'impatto ambientale, bisogna che vengano collegati i porti di interporti in maniera tale che questi dialoghino e che le ferrovie vengano potenziate che è ancora in Italia non solo come infrastruttura ma come servizio qualche volta carente. Ci sono delle novità importanti per quanto riguarda il futuro della Varsila di Trieste perché il gruppo ha annunciato di aver revocato ufficialmente la procedura di chiusura dello stabilimento di San Dorligo della Valle. Questo in ottemperanza del decreto del giudice del lavoro che venerdì scorso aveva rilevato un comportamento antisindacale da parte dell'azienda. L'azienda stessa però non ha escluso la possibilità di un'opposizione al decreto del Tribunale del lavoro. Allora andiamo a sentire il servizio dei colleghi della redazione di Telequattro. Due le novità odierne sul caso Varsila. La revoca ufficiale da parte della multinazionale finlandese della procedura di licenziamento e l'accordo raggiunto tra sindacati ed AEV per il rilascio dei motori. La prima notizia è emersa questa mattina all'udienza davanti al giudice del lavoro Paolo Ancora sul ricorso presentato dalla regione Friuli Venezia Giulia contro Varsila. Gli avvocati dell'azienda hanno comunicato la revoca ufficiale in ottemperanza al decreto dello stesso magistrato del lavoro che aveva rilevato comportamento antisindacale ma non hanno escluso di fare opposizione al decreto stesso. I legali della regione hanno chiesto un termine per esaminare se ci sia ancora ragione di proseguire con l'azione giudiziaria. L'udienza è dunque stata rinviata al 5 ottobre alle 12. La rinuncia al ricorso non è intervenuta al momento, non so se interverrà, però già l'ottemperanza all'ordine del giudice che è una novità per noi, nel senso che noi non eravamo informati, è un elemento nuovo che dobbiamo attentamente valutare per verificare se le esigenze cautelari che noi abbiamo azionato con questa procedura sussistono ancora o vengono meno in ragione della revoca della procedura di Varsila. Intanto è stato raggiunto in mattinata l'accordo fra i sindacati e i massimi vertici di DSM e DAEV sul rilascio dei motori prodotti da Varsila a Bagnoli. Tre le condizioni, che i coreani condannino pubblicamente sulla stampa internazionale il comportamento di Varsila nei confronti dei lavoratori, che sostengano direttamente nei rapporti con l'azienda la strategicità del sito di Sandor Ligo e che imbarchino sulla UHL Fusion esclusivamente i 12 motori di proprietà. Nel canale navigabile già oggi sono dunque cominciate le prime movimentazioni preliminari alle operazioni di carico dei motori che inizieranno domattina. La partenza della nave è prevista tra venerdì e sabato. In una nota diffusa poco fa però, UGL Metalmeccanici denuncia la gravità dei fatti di oggi, avvenuti nel totale silenzio senza informare i lavoratori, notiziandoli a cosa fatta. Non comprendiamo, si legge in una nota del sindacato, la scelta del caricamento a bordo dei 12 motori DAEV, oggetto fondamentale al tavolo della trattativa con l'azienda e senza che questa dia garanzie sul mantenimento occupazionale nel perimetro produttivo di Bagnoli. Il sostegno DAEV a favore del sito produttivo triestino è una promessa di un cliente Varsila che pur coinvolto a condannare pubblicamente l'azienda finlandese non è in alcun modo protagonista di questa vicenda. Questo quanto si legge appunto nella nota diffusa da UGL Metalmeccanici. Parliamo di un'altra azienda storica, la Savio di Pordenone, che riorganizza l'attività dopo il calo della produzione. Il calo significativo della produzione legato agli andamenti di mercato impone alla Savio di Pordenone, storica azienda nel settore delle macchine tessili, ora in mano alla società belga Van de Ville, di riorganizzare la propria attività. Tavolo d'incontro dunque tra l'azienda dai sindacati nel corso del quale è emerso il quadro negativo registrato nel primo semestre 2022, che ora chiede un piano di lavoro finalizzato a recuperare quanto perso. Dal 2023 poi si procederà a ridurre la produzione di testine per la Cina, insomma un totale riassetto dell'attività produttiva, al quale si aggiunge l'investimento di 20 milioni di euro per l'automazione del reparto magazzino. Un investimento senz'altro positivo, dal quale però non si escludono i risvolti negativi che questo potrebbe avere sul personale operativo, generando una quarantina di esuberi. L'intenzione tuttavia è di assorbire tali eccedenzi in altre attività, riportando all'interno dello stabilimento alcune lavorazioni. Il confronto con l'impresa è appena iniziato, fanno sapere dai sindacati. È importante entrare nel merito e analizzare con attenzione impegni e sviluppi progettuali della nuova proprietà. Intanto, continuano i sindacalisti, le vere scommesse sono rivedere l'organizzazione del lavoro e capire anche l'impatto che avranno i due nuovi prodotti che Savio presenterà al mercato nel 2023, con i quali si punta ad alzare la gamma di qualità. Serve un piano industriale con cronoprogramma chiaro e bisogna capire qual è il progetto di recupero nel caso in cui si generino esuberi. Rimaniamo nell'ambito del mondo del lavoro perché una serie di controlli da parte dei carabinieri hanno portato alla luce diverse irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro e anche lavoro nero. Tre attività sono state sospese in provincia di Udine. Sentiamo Francesca Santoro. Tre attività sospese e sanzioni per complessivi 60 mila euro. Questo è il bilancio dei controlli effettuati dal Nucleo Ispettorato Carabinieri del Lavoro di Udine con la collaborazione dei militari delle compagnie di Udine, Palmanova e Latisana. L'attività ispettiva, di natura ordinaria e tecnica, è stata volta alla verifica della regolare occupazione dei lavoratori e a rispetto delle norme in materia di sicurezza, salute e igiene sui luoghi di lavoro. 17 i lavoratori complessivamente controllati. Per l'esattezza sono scattati 6.100 euro di sanzione con sospensione dell'attività a cassacco per un negozio e un centro massaggi in cui sono state individuate rispettivamente un addetta alla vendita e una masseggiatrice che operavano in nero. Attività sospese e multe per 19.500 euro in un altro centro massaggi Malatisana, al cui interno sono emersi violazioni riguardanti i presidi antincendi e i presidi di primo soccorso, non che l'omessa redazione del documento di valutazione dei rischi. Infine è stata sanzionata con 25.100 euro un'azienda agricola in località Chiopris Viscone, dato che durante le operazioni di raccolta delle mele sono state riscontrate violazioni riguardanti l'omessa redazione del documento di valutazione dei rischi e la sorveglianza sanitaria per i dipendenti. E anche la Guardia di Finanza di Pordenone ha effettuato una serie di controlli proprio per verificare il rispetto di tutte le normative in materia di lavoro. In questo caso sono stati individuati 11 lavoratori in nero, tra cui 4 clandestini tra lavorazioni agricole, centri estetici, bar, commercio ambulante e pizzerie. In totale sono 6 le attività sospese. Per tutti i particolari anche su queste operazioni della Guardia di Finanza di Pordenone vi rimando all'edizione del nostro TG dedicata proprio alla destra Tagliamento. Adesso andiamo avanti con la cronaca perché nella serata di ieri c'è stato un grave infortunio, un grave in Cirente durante un allenamento su un campo di calcio a Gradisca di Sonzo. Un portiere ha subito un grave trauma alla testa. Questa e le altre notizie di cronaca della giornata di oggi nelle nostre Flash News. Grave infortunio ieri sera poco dopo le 20 per un calciatore di 20 anni di Cormons. Il giovane durante un allenamento come portiere nell'impianto dell'Itala San Marco di Via dei Campi a Gradisca di Sonzo è rimasto coinvolto in uno scontro di gioco procurandosi una piccola frattura alla tempia con relativo versamento. La Sores è inviata automedica ambulanza dopo che gli operatori sanitari gli hanno praticato il massaggio cardiaco. Lo hanno stabilizzato e intubato sul posto. Il malcapitato è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Cattinara a Trieste. Il cacciatore è stato posto in coma farmacologico, sedato e intubato. La prognosi resta riservata ma da due attacche successive pare che il versamento non sia aumentato. Tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto attorno alle 9.30 di stamattina sulla tangenziale Est in direzione Povoletto in comune di Tavagnacco. Sul posto sono sopraggiunte le forze dell'ordine per i rilievi, oltre agli operatori del 118 che hanno portato i feriti in ospedale. Le persone rimaste coinvolte risultano ferite in modo non grave. In tangenziale sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando di Udine per mettere in sicurezza i mezzi inevitabili. Disaggia la circolazione. Il personale del terzo reggimento guastatori dell'esercito è intervenuto San Pier di Sonzo per la messa in sicurezza dell'area, in cui lunedì pomeriggio si è verificata un'esplosione, in seguito alla quale è rimasto ferito un 34enne goriziano. Il sopralluogo congiunto con i carabinieri della compagnia di Gradisca di Sonzo ha permesso di escludere ipotesi di reato di matrice terroristica e infortuni sul lavoro. Pare che all'interno di un'officina della centrale elettrica, l'operaio, al termine del turno lavorativo, sia stato investito della parziale detonazione di un residuato bellico di piccole dimensioni che lui stesso aveva trovato. L'uomo è ancora ricoverato in ospedale a Udine in prognosi riservata. Nell'ambito dell'operazione Profumi dell'Est, i militari della Guardia di Finanza di Torino e di Gorizia hanno dato esecuzione a 17 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone di origine rom-macedone. Cinque sono stati posti agli arresti domiciliari, mentre i restanti dodici sono stati sottoposti all'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. È stata così sgominata un'associazione per delinquere, finalizzata l'introduzione in Italia di profumi e accessori di abbigliamento con segni distintivi di note griff contraffatti. Tramite intercettazioni telefoniche, il posizionamento di telecamere e GPS veicolari sono stati sequestrati, oltre a 18.000 prodotti tarocco. La merce proveniva dall'Ungheria ed era diretta in mercati rionali. La squadra comunale di protezione civile di Cervignano è intervenuta nel pomeriggio in via dei Platani e Civico 20 dopo una segnalazione relativa a uno sversamento di sostanza oleosa nella roggia della Carlessa, nella frazione di Muscoli. Si tratta di una chiazza di presunta sostanza inquinante non identificata e stesa per circa 50 metri. La squadra comunale di protezione civile ha operato in sinergia con ARPA e polizia locale, allertati anche i vigili del fuoco. Solo poche settimane fa, nello stesso punto, si era verificata una problematica identica. C'è un'alerta meteo di colore giallo in corso, emessa la protezione civile del Friuli Venezia Giulia. La fase acuta, secondo la nota della protezione civile, è prevista dalle ore 18 di oggi alle 6 di domani. Un intervallo di tempo in cui sono previste piogge sparse, più probabili sulla fascia orientale. Sulla costa saranno probabili temporali, alcuni dei quali potranno essere anche forti, con piogge intense e persistenti. Sulla costa soffierà invece vento di Scirocco, vento da sud moderato. Queste sono le immagini che ci mostra il radar dell'Osmer Arpa e che ci illustra la situazione in tempo reale sul Friuli Venezia Giulia. E a proposito di maltempo, prosegue il lavoro della protezione civile della regione partita alla volta delle marche per aiutare le popolazioni colpite dall'alluvione. I nostri volontari sono al lavoro nel comune di Ostra, dove la gente ringrazia i volontari della colonna mobile impegnati a ripulire dal fango strade, marciapiedi e accessi alle case. Grazie al loro supporto, questa mattina è stata riaperta una scuola elementare, ma il lavoro continua perché restano da ripulire ancora molti quartieri. Vediamo. Nel comune marchigiano di Ostra, questa mattina, gli alunni di una scuola elementare, nei giorni scorsi inaccessibile a causa dei danni causati dall'alluvione, hanno potuto tornare in classe grazie al supporto ricevuto dalla protezione civile del Friuli Venezia Giulia. Un importante passo verso un ritorno, per quanto possibile, alla normalità, che porta un po' di sollievo sia ai bambini che alle loro famiglie. I volontari della colonna mobile, in forma alla protezione civile del Friuli Venezia Giulia, hanno rimosso con grande efficienza tutto il fango che si era depositato attorno all'edificio educativo. Questo mercoledì saranno impegnati a ripulire l'intero quartiere. Un lavoro duro e impegnativo, sottolinea la protezione civile, ma ripagare è il grazie della comunità locale, un grazie che si stende a tutta la popolazione del Friuli Venezia Giulia. Operativi nel comune marchigiano da lunedì, anche ieri, martedì, i volontari hanno continuato a lavorare nel fango, spostandosi da un quartiere all'altro, rimuovendo detriti e limo solidificatosi. La stanchezza comincia a farsi sentire, spiega la protezione civile, ma non demordono, animati dalla forte volontà di aiutare. Ieri i volontari hanno operato in via Girolamo. In un giorno e mezzo sono riusciti a pulire e a mettere in sicurezza oltre 20.000 metri quadri tra strade, marciapiedi e accessi alle case. Un impegno ripagato dalla riconoscenza della popolazione che ha portato loro, in segno di gratitudine, generi alimentari per fare merenda. Veniamo all'aggiornamento sull'epidemia di Covid-19. 36.632 nuovi casi nelle ultime 24 ore in tutta Italia, 48 i decessi. L'indice di positività è al 18,4% stabile rispetto alla giornata di ieri. Tornano a salire invece i ricoveri in ospedale, 139 i pazienti in terapia intensiva, 11 in più. 3.715 invece i malati Covid nei reparti ordinari, anche qui 62 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono quasi 460.000, 15.000 in più quasi rispetto alle ultime 24 ore. I dati del Friuli e Venezia Giulia riferiscono di 1.149 nuovi casi nell'arco delle 24 ore a fronte di 5.490 tamponi con un indice di positività del 20,93%. C'è stato un decesso e vediamo che anche in regione tornano a salire i ricoveri nei reparti ordinari, sono 125, 4 in più stabili invece le terapie intensive ferme a 5 pazienti. Un aggiornamento di politica adesso. Andiamo sulla home page del sito internet dell'Ansa, cambiata pochi minuti fa. In primo piano vediamo proprio gli esiti di un incontro tra i leader di Fratelli d'Italia e Lega, da Meloni e Salvini che alla fine di questo incontro hanno diffuso una nota congiunta. C'è unità di intenti tra i leader per la formazione del nuovo governo. Fratelli d'Italia dice né nomi né veti, ma alcuni rumors dicono che si fa strada l'ipotesi di una doppia vicepresidenza del Consiglio con Salvini e Tajani. Questi i rumors poi vedremo appunto cosa emergerà nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Continuiamo con la politica. Parliamo del Movimento 5 Stelle soli piuttosto che male accompagnati. Questa è la posizione del Movimento 5 Stelle dopo i risultati delle ultime elezioni che hanno visto i pentastellati ottenere il 15,5% dei consensi a livello nazionale. In regione il Movimento non è andato oltre il 7,4% circa, anche se a Trieste ha toccato il 10% con la candidatura del ministro uscente Patuanelli al Senato. Per il consigliere regionale Maurizio Capozella non è dunque il momento di parlare di alleanze con altre forze politiche in crisi. Secondo me questo tema del campo largo ha iniziato a portare un po' sfortuna, nel senso, anzi più che portare sfortuna non ha portato nessuno da nessuna parte. Io penso che la recente campagna elettorale appena conclusa si ha dichiarato che in questo momento non c'è la possibilità di alleanze, non si può parlare di alleanze. Il Movimento 5 Stelle nel momento stesso in cui è ritornato alle vecchie origini, cioè a correre da solo con un leader straordinario come Giuseppe Conte ha dimostrato in brevissimo tempo non solo di riuscire a ressuscitare delle sue stesse ceneri ma anche di proporsi al proscenio nazionale come forza di opposizione credibile o addirittura come l'unica vera forza di opposizione. Io credo che questa qui, in questo momento, sia la strada tracciata dal Presidente Conte, cioè soli piuttosto che male accompagnati. Attendiamo lo scenario politico attuale, come ricordava lei, ci dice di dover attendere quelle che sembrano essere crisi strutturali o esistenziali di altre forze politiche sulle quali ovviamente non entro. È meglio che io, come tutti quanti noi del Movimento 5 Stelle, ci focalizziamo su quelli che sono i nostri punti di forza e su debolezza. Quindi oggi parlare di alleanze con altre forze politiche evidentemente in crisi non mi pare opportuno. Dobbiamo pensare a noi, a come strutturarci sul territorio. L'obiettivo del Movimento 5 Stelle deve essere una forte strutturazione e radicamento territoriale. Lasciamo ad altri le loro crisi, nella speranza ovviamente che si risolvano nel più breve tempo possibile. E adesso cambiamo decisamente argomento, voltiamo pagina e passiamo agli spettacoli, perché sabato 8 ottobre il Teatro Nuovo Giovanni Daudini e ospiterà la finalissima di Percoto Canta. 12 i finalisti in Lizza, con tanti ospiti anche nella serata. Andiamo a sentire il servizio di Francesca Santoro. Si sono presentati in oltre 100, ma sono rimasti solo in 12. Saranno loro a contendersi sabato 8 ottobre alle 21 sul palco del Teatro Nuovo Giovanni Daudine l'atteso premio della 35esima edizione di Percoto Canta. Il festival diventato un punto di riferimento per giovani e meno giovani cantanti di tutto lo stivale. Una piccola Sanremo, dove le canzoni, ha commentato il direttore artistico di Percoto Canta, Nevio Lestuzzi, si mescolano lo spettacolo e dove a giudicare sarà una giuria d'eccezione composta da grandi nomi della scena nazionale e internazionale oltre che da una giuria di giornalisti e da quella popolare. Quest'anno la commissione è presieduta da Niccolò Agliardi, cantautore milanese che nel 2020 ha vinto un Golden Globe e una nomination all'Oscar con il brano Io sì di Laura Pausini. A suo fianco altri grandi nomi, a cominciare da Dodi Battaglia, storico chitarrista e voce dei Poo in rappresentanza di Nuovo e Mai e che da quest'anno ha messo in paglio il primo premio assoluto del valore di 10.000 euro. Ci saranno poi Simona Molinari, cantautrice napoletana pop jazz dallo stile unico e personale e Sergio Cerruti, presidente di Afitalia. L'associazione Fonografici Italiani, che consegnerà un premio a dimostrazione di come per Cotocanta sia una rampa di lancio per giovani artisti che desiderano imporsi nel mondo della musica. Tra gli ospiti della serata, presentata da Luca Ferri e Giorgia Bortolossi, ci sarà anche il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, con cui si parlerà di solidarietà, in particolare dell'associazione italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. A margine del Conte Scanoro, ci sarà il premio internazionale per Cotocanta, assegnato a tre cittadini italiani residenti all'estero, organizzato in collaborazione con l'ente Friuli nel mondo. C'è una bella notizia per i tanti fan della cantante Elisa, perché dopo il successo della tournée estiva Back to the Future Live Tour, la cantante monfalconese torna a grande richiesta nei teatri con An Intimate Night. Il primo concerto è in programma il primo dicembre al Politeama Rossetti di Trieste. Siamo in chiusura di questa edizione del nostro TG, allora come sempre prima di salutarci vi ricordo la nostra prima serata dedicata questa sera al mondo della nautica con uno speciale sul Salone Nautico di Genova, a barche da sogno realizzato da David Zanirato. e poi alle 21.45 invece spazio alla politica con l'agenda di Alberto Terasso, Regione e Udine, obiettivo 2023, questo è il titolo dell'approfondimento. È tutto per il momento, grazie come sempre per la vostra attenzione, vi lascio alle previsioni del tempo e poi la sigla. Amici di Udinese TV, ben ritrovati da Fabio Dalio di Trebimeteo. La situazione nel corso di giovedì continuerà ad essere particolarmente instabile sul Friuli Venezia Giulia, sempre per effetto di un flusso di correnti umide nordatlantiche che trasportano impulsi instabili con occasione per nuove piogge, acquazzoni e temporali, specie nella seconda parte della giornata. Vediamo più nel dettaglio il tempo sul Friuli, che sarà inizialmente nuvoloso con qualche goccia di pioggia possibile in mattinata, ma sarà soprattutto tra il pomeriggio e la serata che il tempo andrà peggiorando con lo sviluppo per nuove piogge, acquazzoni e anche qualche temporale. Temperature stazionari attorno ai 21 gradi di giorno sulle pianure. Passiamo alla Venezia Giulia, qui la situazione vedrà sempre qualche nuvola inizio giornata con precipitazioni residue della notte, ma poi la tendenza vedrà un peggioramento tra il pomeriggio e la sera con lo sviluppo per nuove piogge temporali su Goriziano ma anche sulla costa. Per tutti i dettagli, come sempre, consultate l'app di 3B Meteo. Grazie. Grazie.